Né 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 nè nè né Aspetta un no, ma... Oh cavolo! Né nè 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 Ciao a tutti sono Isaac e... Si, facciamo sto benedettori araoni Sono anche leggermente in ritardo Comunque, Clessidra, ecco qua E pronti per un altro video da 30 minuti Che non è da 30 minuti Allora, ho visto semplicemente l'inizio Ho scoperto che questo gioco in inglese e non c'è la traduzione in italiano, quindi mi dispiace Ma farò una fatica in money Allora, spazio Perché si usa spazio e non più zetta come nell'altro gioco Così dopo non mi confondo con Undertale che abbiamo già finito in live Se andate e volete vedere quella live andate a vedere Si trova nella categoria l'idol Novembre 2003 Questa è la storia di sei persone che sono entrati in un edificio abbandonato Per il fiore di una città, vabbè, bla 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 E i nostri personaggi proprio vogliono stare lì per mezz'ora E in ogni caso Takeshi deve andare a letto Aspetta, c'è Takeshi Takeshi's Castle Ma non era morto Ok, siamo a West Nira Point Ah, è praticamente un ospedale, quindi Hiroshi Chi era Hiroshi? Ma quello lì è cinene Aspetta Non possiamo più dare il nome a cinene Adesso si chiama Hiroshi, brutta cosa Ah, quindi questo è il posto Beh, cosa ti aspettavi? Questo posto non è operativo dagli anni 50 Ok, questo è Ok, Ryan è il nuovo Takeshi Rian R-R-R-R-R-R-R-R-R-An Ecco, perché è staccato Questo posto è un po' Spaventoso, fa paura E vabbè, amen Perché quel tizio è vestito come un Gundam? Che sì, non dovevi portarla con te Aspetta Ah, ok, quindi quelli due sono sorelle Ok, ci ho bisogno un attimo capirlo Ah, questo posto è stregato Ok, ok, è maledetto Ho capito, ho capito È la solita Takeshi! Eccolo Takeshi Che Che le ha perso una persona Però bello come Takeshi c'ha Ancora più la pettinatura da Diokinokan Bellissimo E c'è anche Mika Non mi ricordo di Mika Ah, sì, è quella che è morta per prima Vabbè Ok, Takeshi ha quasi sempre la testa sul numero L'abbiamo capito, eh Farà veramente paura, Cassie? Aspetta, ma quella è la dottoressa Che cavolo? Allora, eh, cosa, cosa? Ah, ok, quindi Qua praticamente ci dice se è nero o no il sangue Tiè, ecco Volete venire qua? Bene, allora beccatevi sto sangue Eh, cosa? È caduto No, qualcuno gli ha tirato un pugno, eh Si è sentito È morto Ah, ok, va bene Lasciamolo Tanto Ah, è caldo Quindi probabilmente c'ha la febbre Ah, è svenuto Ok, va bene Chissene Ah, no I fantasmi non esistono Ah, quindi non l'ha ucciso un fantasma Va bene, va bene Allora che cosa vogliamo fare? Lo lasciamo qua C'è la sedia lì, ecco Mettiamolo su quella sedia E facciamo finta di niente, ok? Dobbiamo andare a prendere un bicchiere d'acqua per lui Non so come farà a bere da svenuto Però va bene, ok Andiamo, andiamo Ah, e viene con noi anche questo tizio qua Di cui non mi ricordo Takuro 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 Allora Una domanda c'ho Come mai sei ancora vivo, eh? Come vai? No, no, vieni qua Vieni qua Vieni qua Oh, posso vuoi Vieni qua, perché? Sbrigati Eh, porca miseria Tu dopo mi devi Mi devi chiedere Eh, dove vai? Dove vai? Cosa fai? Che bello E finalmente non sembra che scivolo come nel primo Guardate che belli I movimenti della telecamera sono bellissimi Che cavolo sono quegli stuzzicadentini Allora Uh Ecco, qui c'è la cucina Qui di sicuro c'è un lavandino Oh, aspetta, aspetta No, questo è un fornell Chi è che è in cucina? Non è un lavandino Però ha il fornell Eh, c'è una chiama inglese Ok Dunque Ma no, che cucina è questa? Scusa È proprio un vero ospedale Con Con I corridoi lunghissimi Ah, si esce qua Ok Vai in Cina Poi qui c'è un super computer Non ho capito Vabbè, ci giocheremo a Minecraft con questo Ok Ho sbloccato questa porta con la kitchen Ah, ecco Questa è la vera cucina Allora l'altra che cosa era? Scusa Allora Oh, eccolo qua Lavandino, lavandino Vieni qua, vieni qua Ecco No, giusto Ci sono un bicchiere da qualche parte Bicchiere? Ok Preso il bicchiere da Aspetta C'è il lavandino lì? E tu prendi un bicchiere di acqua dal frigo? Vabbè, ok Sarà estate probabilmente No, no No, ok Lo rimetto il bicchiere d'acqua Che cavolo? Se ne è data la corrente? Aspetta Il generatore era di qua se non sbaglio A meno che quello non fosse un boiler Però adesso andiamo a vedere Ecco che inizia il gioco E scommetto Scommetto Tutto Che sono spariti tutti Tutti Ah, ecco Quelli sono lampadari Ho capito adesso Ok, questo non è un generatore come immaginavo Va bene Allora andiamo a vedere Eccolo là Lo sapevo Lo sapevo È ovvio come Hiroshi Non farti domande Tranquillo A parte che sembra strano Che non ti ricordi Che è successo La stessa identica cosa A ogni uno Però vabbè Dissene Vediamo un po' Ehi gente Ho un bicchiere d'acqua Ho un bicchiere Ok, il bicchiere d'acqua Sarà la nuova scheggia di piatto Dove saranno andati a finire tutti Eh Ok Ok Questo ospedale inizia ad essere bello grande Eh E Oh Sta musica aiuto È già molto più creepy rispetto a ogni uno Preferisco sta musica qua Perché è leggermente meno creepy Qui c'è una bibbia Ah, quindi in questo libro c'è scritto Tutta la gente Dal 1800 Che è venuta qua sull'ospedale Va bene Va bene Ok, interessante Ah qui Ok, lì c'è il piano di sotto Infatti c'è la roba nera Quindi probabilmente È troppo buio Infatti Questa è bloccata Iniziamo a fare l'esplorazione Delle porte bloccate Potrei saltare sopra questa cosa qua Ma non lo vuole fare perché è un intellettuale No, gli intellettuali non saltano Vai in Cina, eh Cinene Ok Oh, vedo qualcosa là sopra Oh no Partiamo bene E poi Qualcuno ci vuole tenere fuori da qui Guardate Hanno messo proprio Le librerie le hanno messe perfette Per non farci passare da nessuna parte E voglio andare su quella porta Io assolutamente Quindi troviamo un modo per aprire quella cosa là Intanto andiamo ad esplorare la parte di sopra Oh, questo cos'è? Uh Aspetta Flashlight Una torcia? Ma come si usa? Io so solo due tasti Ah, ecco qua Andiamo Come si attiva? Non posso attivarla? E dai Aspetta un attimo Perché qui possiamo andarci E qui no? E qui ci posso andare No, ok È strano Entrambi casi È nero Vabbè, qui ci possiamo andare Uh, una chiave Eh, vabbè Sì, è Intellettuale Spostami ste scatole Potrei spostare le scatole così Tata Presa Facilissimo E io che mi complicavo la vita Dovo spostarle tutto No, basta spostarne due Va bene Che chiave abbiamo ottenuto? Scusa Ah, la chiave del bagno Che immagino sia qui, vero? Eh, esatto Che ci fai qua, Takeshi? Hiroshi Cinene Cinene, volevi dire, eh Mi raccomando Di cinene la prossima volta Se no ti sposto Takeshi, stai bene, eh? Dove sono gli altri? A parte che te eri svenuto Eh, ecco, ecco, ecco Trema 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 No, no, no Dovevi tremare Non andare via Dove stai andando? Porca miseria Fai prendere un po' di batteria Avevo un bicchiere d'acqua per te, Takeshi E c'entro la porta Però, eh Ok, adesso posso Ok, ho messo la batteria sulla flashlight E adesso è on Però io la spingo Va bene Andiamo di qua, allora Dato che abbiamo preso Ok Ci siamo Ci siamo Arriva il mostro Aiuto Secondo me Secondo me Il gioco ci Ah, no, 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 no Please Computer, fammi luce A parte che Ho la batteria Ah No No, 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 no Porca miseria Eccolo Eccolo Il classico Perché è nero? Perché non è più viola? Ah Help 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 Oh, oh Sono già fregato Aiuto Dove devo andare? Dove devo andare? Dove devo andare? No No, no Sono fregatissimo Sono fregati Oh, cavolo Adesso sì che sono fregato Ah, già Devo salvare manualmente Certo che sono bravo A ricordarmi che devo salvare Sono proprio bravo Skip 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 Riecomi a sto punto E allora Eccolo Fai prendere sta carta Che prima ho visto che c'era Allora Domanda Perché cavolo Sei bianco e nero adesso eh Sembra un film degli anni 30 così Aiuto No Fammi uscire da qui Fammi uscire da qui Oh E questa è la nostra Nuova zona salvezza Pronto? Ok Il mostro sparisce come nel primo Almeno questo Per fortuna non esiste un Nemesis In sto gioco Se lo sarebbe veramente un casino Allora Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto Carta F1 Ah Ok Del primo Primo piano Ok Allora dobbiamo andare in quella porta là sopra E vedere cosa c'è là dentro Proprio quella porta dove c'era la musica creepy Aiuto E poi È tornata la luce Tra l'altro Perché c'è la luce in un edificio abbandonato Chiave UZ Uh Bellissima È proprio una porta a scorrimento Bellissimo Bellissimo Qui che cavolo di stanza vuoi che ci sia? Ci sono le scale proprio là Vabbè dai Andiamo a vedere Bloccato Ovviamente È una stanza in fase di costruzione Stanno creando la stanza più Più sottile del mondo Allora Qui ci sono Già me ne si è aperto un mondo adesso Lì sotto ci sono delle scale così nel vuoto E qui ci sono un sacco di porte bloccate Ah Prevedo un casino Questo è bloccato E allora andiamo a vedere cosa c'è qua sotto Quindi ci sono quattro porte bloccate qui Qui c'è Robe Robe che di sicuro ci sono in un ospedale Ah Aiuto Quello era Ah ho capito che cos'era quello Uh Non di me che riparte di nuovo la luce eh Perché io Come sono messo con la batteria E Scusa per favore Svegnila quella flashlight Ma scusa posso aprire e chiudere le cose Ma non posso entrarci Ma che aoni è questo Ah questo è un codice Ok ok perfetto Non funziona Quindi abbiamo quella specie di sveglia lì Che ha bisogno di un codice Le stanze quelle lì che avevo visto prima Ultrasottili sono Se non sbaglio le camere quelle lì dei pazienti Ecco perché c'è ancora idee così lunghe così tante stanze Qui c'è una lavatrice Ok Scusa allora Dato che tutte le cose sono bloccate qui Qui Hanno finito di costruire sta stanza Benissimo Andiamo a vedere No aspetta Aspetta Come cavolo fa Questa stanza A starci Lì Come E qui cosa c'è C'è un Devo ricalibrare Un monitor è calibrato per 72 Hz Non facciamo niente Che non vorrei Uccidere quella sedia E qui c'è un'altra chiave Vediamo Small key Ok credo sia una di quelle che aprono Una delle stanze in questa corsia Andiamo a vedere Eccola qua Perfetto E qui Un altro Un altro Coso qua Un altro elettrocardiogramma Porca miseria Metteteli bene Questi lampadari Monitore a 55 Hz Ok quindi 72 55 Ricordiamocelo Ci sarà di sicuro Un altro elettrocardiogramma Più avanti Posso prendere Coda sta roba Ma chi Ma che Si sono impegnati A strappare Sto pezzo di carta A disegnarci Così bene Due cose Comunque si abbiamo capito Dobbiamo usare Gli armadi Come nel primo Per nasconderci dal mostro Peccato che sia più facile Scappare dal mostro Che nascondere Se negli armadi Aspetta che succede Se setto anche questa A 55 Tac Ricalibrato E qualcosa Sembra essere diverso Che cosa Non mi fa più interagire Fantastico Aspetta ma lì c'è un foglio di carta Fa vedere Posso Posso prendere Voglio prendere Ok devo fare il giro Maledetto cinene intellettuale Cosa c'è qua Uh Ok 72 55 37 Vediamo Proviamo Almeno che non sia 55 55 37 Adesso vediamo 5 Eh dai ma quanto Cavo 55 No io non ci arrivo A 72 Posso fare così Grazie 72 E 37 Vediamo un po' Niente Ok proviamo 55 55 37 Niente Aspetta E se fosse 55 Nada Ok fa niente Allora andiamo a vedere Cos'è cambiato Dato che abbiamo cambiato Due Ah qui non posso andarci Perché ci ne è scemo Eh È sparito il tizio Che si è rimpiccato Aspetto Ho capito Oh no È la stessa maledizione Che c'era nel primo Quando qualcuno muore Si trasforma in un mostro Quindi è il tizio Impiccato Quello che è morto È diventato un mostro Ah Credo Non lo so What Ma Perché posso interagire Con questa libreria Con queste no Ma che cosa è sta roba Ok cosa c'è scritto qua Lore Non me l'aspettavo I naoni Ma Ma Questa chiave Non c'era prima Oh cavolo Si sta spegnendo di nuovo La luce Prepariamoci a scappare Di nuovo da un mostro Per fortuna È pieno zeppo di Armadi Qui non possiamo neanche Entrarci Niente Hai letto anche te la nota Devi entrare negli armadi Perché questo lo posso aprire Questo qua no Ah Mister Ok possiamo aprire questa porta Unlocata Con la click Forse era meglio Mettere il sangue verde Però Cosa sono sti spara flash Mi fanno venire L'epilessia Aiuto No Non spostare le prove Del delitto Che poi arriva la polizia Ah non è sangue È vino Stavano sperimentando Col vino Ok va bene Cos'è questo Perossido Dio di idrogeno Qualcosa del genere Beh sono sicuro Che un intellettuale Come cinere Ce la farà Ok Altro enigma Che qui non so come fare Vediamo qua C'è un'altra cosa Che si può prendere Quanto è bello Che le cose Che si possono prendere Finalmente sono Cir Ci hanno un bordo nero Ecco È comodo E mezza chiave Ecco Questo è meno comodo Però si Di idrogeno P P Però Non lo Ah basta Basta flashare Mtt W S S F Non lo so Non lo so Questo non lo so Lo vedremo dopo Intanto voglio andare a vedere Cosa posso fare con questo Oh Eccolo Tra le cose Io non Queste domande Non avrò mai risposta Vero Stai bene Hai visto qualcosa C'è un mostro lì fuori E stranamente Non mi ricordo niente Di Aoni Uno Aspetta Questo è il seguito Di Aoni Giusto Non è un remake Allora la gente Boh Lo so Lo so Sono scappato un paio di volte Da quel mostro Mi ha già ucciso un paio di volte In questo gioco Siamo Divisi Ci siamo separati Ok E va a destra e a sinistra Aiuto Ok devi stare calmo Infatti lo dice anche Cinene lo dice C'è una spiegazione logica Per tutto questo Sì certo Solo perché le luci Vanno via E c'è qualcosa di Che si muove nel buio Non vuol dire che sia Panor Non vuol dire che sia Paranormale sta cosa Eh sì certo Cinene E anche un mostro in bianco e nero Che ci segue Questi anni 30 No No È tutto normale Sì Dove è Takuro? Ah Boh Sarà morto 5-6 volte Ok fammi vedere Dove hai visto l'ultima volta Takuro Perché l'hanno visto loro Però Stai scherzando? Non voglio uscire con quel mostro Che sgironzola in giro Ah sì? Vuoi fare la fine che hai fatto nel primo gioco? Eh? Takuro sta contando su di te Quindi vieni Vieni con me subito E E E finiamolo Ok? Dai andiamo amica Oh Posso fidarmi di te? No Certo che posso fidarmi di me Dai Ok dobbiamo trovare Takuro Va bene Andiamo Oh finalmente Abbiamo un NPC Ah no Noi dobbiamo seguire l'NPC Aiuto Però Piano eh No 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 Ah No no Maledetta Maledetta Mi tradizzo Ah Però anche te cinele che non c'entri le porte Ok rieccovi E stavolta Andiamo in quel maledetto armadio Come fa lei? Veloce Veloce Corri Corri Takuro Mi sa che qua ci sono fregati tantissimo Che cosi sono sti suoni? Non mi piace sto silenzio Ah E Mica è morta Chissà perché Bellissimo E tra l'altro Come se non bastasse proprio tutto questo Che ci fate voi due là? Ehi 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 Perché non mi fai entrare? Ci sarà una chiave Come chiave l'avete fatta entrare qua? Che ci sarà una chiave? Non mi spiegheranno mai queste cose Ok Come se non bastasse La luce si è spenta di nuovo Abbiamo la nostra torcia? Sì E' ancora on Maledizione Si scaricherà con la batteria prima o poi E sarà tutta colpa tua cinene Che non vuoi togliere la batteria Dalla Eh Dunque Ora abbiamo Un po' di Per ossido di idrogeno Credo sia Non lo so Scrivete nei commenti Io proprio non so Chimica Questa cosa brutta Che non conosco Allora adesso Proprio Non saprei cosa fare Perché abbiamo Siamo al punto di partenza Abbiamo soltanto un oggetto in più Che Non so neanche cosa sia Quindi non so dove potremmo usarlo Settantaquattro Ok Ok Settantaquattro Trentasette Se non sbaglio Andiamo a vedere qual è l'ultima cifra Di sicuro sarà scritta da qualche parte qui Proviamo Settantaquattro Cinquantacinque Trentasette Nada Proviamo a farla allo contrario Cinquantacinque Settantaquattro Trentasette Nada Ah Aspetta Se dovessi mettere lì nell'ordine In cui appaiono i numeri Quindi Allora Nella prima stanza appare il cinquantacinque Nella seconda appare il trentasette Anche se l'hai messo nell'ultima posizione E poi c'è settantaquattro qua Nada Quasi quasi Voglio vedere se posso portare questa sedia Fino Ok non posso spostarla Bella cosa Ok forse ho una mezza idea di quello che potrei fare Se non ricordo male In una di queste stanze C'era Un libro Con delle Ok non è lì qua C'era Questo libro qua Che è l'unico che si può leggere Che forse ha qualche indizio Su quello che dobbiamo mettere Sulla Sull'enigma delle lettere Aiuto Mi sono perso Non so cosa fare Allora C'è Sto puzzle qua Che di sicuro È da risolvere Però non ho nessuna combinazione Quindi non Non so cosa farci Leva Ok posto E poi C'è i numeri C'è 55 74 E 37 Quindi il resto non lo so Comunque Mi sa che per il momento basta così Cercherò un modo Per andare avanti E intanto ci sentiamo Nel secondo episodio Ciao